Benvenuti a un nuovo episodio di cose a caso. Oggi parleremo dell'annosa questione della perdita e la caduta della voglia di vivere. Fin dall'antichità gli esperti hanno rinvenuto possibile il fatto che dopo un po' che uno è nato e fa delle robe si stufa. Gli esperti evincono dunque che per avere della motivazione nella vita bisogna avere qualcosa in cui credere, un senso, un obiettivo. E' da qui che poi spuntano dunque come esigenza quella di avere... E' qui che entra poi in gioco la motivazione personale che per ognuno è diversa. Potrebbe essere un obiettivo, una credenza, ma anche un mobiletto per il bagno. Avere di fatti nella vita un mobiletto per il bagno potrebbe essere molto importante per ritrovare un senso. Potremmo afflezionarci molto a quel mobiletto per il bagno e prenderci così cura anche di tutto il bagno. Il fatto di svegliarci al mattino e sapere che c'è quel bagno con quel mobiletto per il bagno di quel colore che vogliamo noi, con sopra quella roba lì, potrebbe farci venire voglia di avere più mobiletti per il bagno. Più bagni, più case, più persone che fanno mobiletti per il bagno e diventiamo l'IKEA. Si evince dunque come sia sempre la passione a motivare la vita delle persone che siano appunto mobiletti per il bagno, credenze, comodini, la ricerca scientifica, l'amore. Ognuno di questi oggetti di fatti non è importante di per sé ma è importante una motivazione che ci muove ad andare verso quell'oggetto. Cosa ho detto? Non lo so. Anche se ci dicono gli esperti cercare un oggetto del desiderio all'esterno non è altro che un surrogato di cercare dentro di sé la vera motivazione che ci spinge a vivere, a fare delle cose, a cercare un senso a questa vita anche se è un senso... Fine. Sigla.